special guest su studio 5 amici di studio 5 salve allora siamo qui con i mobili trignani ma perché mobili trignani? io sono fabrizio io sono nicola siamo i mobili trignani e perché fabbri? perché mio nonno aveva i mobili mio padre è ereditato da lui questa ditta poi quando è arrivato il mio turno essendoci rimasta solo l'insegna ho cercato di valorizzare questa cosa e ho dato il nome al progetto musicale mobili trignani pur occupandomi di tutt'altro mobili trignani da dove venite? veniamo d'arsita siamo abruzzesi veniamo d'arsita in provincia di terra un piccolissimo paese che? che si trova alle pendici del monte camicia volevi dire? sì e che niente siamo qui piacevoli vittime della nostra condizione isolata ma troviamo qui gli stimoli per creare quest'anno passato insomma ci sono state tante belle cose che avete fatto parlatemene nel 2023 si è aperto con l'inizio della collaborazione con la music force e dopodiché c'è stato musicultura siamo stati selezionati su una bella rosa di artisti da tutta italia invitati al premio tenko al tenko ascolta e poi c'è stato un bel tour fit di date dalle quali poi è stato estrapolato fondamentalmente nella parentesi sarda il video di labora come componete i vostri brani qual è il vostro iter che seguite per scrivere un brano visto che siete due il nostro workflow ti piace workflow sono canzoni scritte insieme alla fine ci occupiamo entrambi sia della produzione che della composizione anche della parte letterale chiamiamola così io scrivo i testi fondamentalmente sì il resto poi ci pensa nicola cioè mi doveste descrivere il vostro genere come come lo fareste questa è una domanda che ci fanno in molti e soprattutto non sapendo rispondere o trovandoci un po in imbarazzo nel cercare di capire dove collocarci abbiamo deciso di farci un album il disco giallo chiamato un po particolare appunto il nostro genere un po particolare dovete dire a un ragazzo di ascoltarvi perché ascoltarvi e come glielo dite i mobili trignani portano fortuna esatto in amore e anche al lavoro esatto appunto labora ascoltateci e le vostre vite fioriranno e soprattutto siccome è uscito il singolo labora dove vi troviamo dove possiamo trovarvi insomma quali sono le vostre pagine sia social ma anche immagino e suppongo sulle piattaforme ecco dove su tutte le piattaforme di streaming abbiamo il profilo spotify apple music ovunque youtube troverete il videoclip girato in sardegna instagram e facebook sì chiaramente basta cercare mobili trignani e appariamo come prima scelta speriamo almeno lì beh sì ciao a tutti grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radio studio 5 fm da fabrizio e nicola che insieme fanno i mobili trignani esatto ciao ciao